Salve ricercatori della terra piatta e smantellatori del globo. Uno dei fatti più ovvi e facilmente osservabile nella vita di chiunque che è dotato di un paio di occhi è che quando guarda attraverso la superficie della terra non importa quanto siamo alti o bassi da questa superficie vediamo sempre l'orizzonte a livello dei nostri occhi. Questo è il punto a metà fra il basso e l'alto del nostro campo visivo quando guardiamo diritto in avanti dove abbiamo la veduta più lontana che possiamo vedere fisicamente che in realtà non è per niente così lontana ma questo è dove i difensori del globo e coloro che sono contro la terra piana entrano in modalità di completa negazione devono negare questa cosa della prospettiva con l'idea che quello che vediamo di fronte a noi è la curvatura della terra a globo anziché il fenomeno ottico che conosciamo come la legge della prospettiva senza la quale non potremmo fare cose come disegnare o tirare la palla da pallacanestro nel cesto e molte altre attività quotidiane che hanno a che fare con la profondità del campo della prospettiva che annovera tutto quanto quello che facciamo. Ed è qui che arrivano le scuse rapide e grossolane quando le persone diventano ridicole nel cercare di negare che la prospettiva è la cosa dove l'orizzonte rimane sempre a livello dei nostri occhi. Se ne escono dicendo che si tratta di frazioni di abbassamento sull'orizzonte nello sforzo di affermare che stiamo vedendo la curvatura davanti a noi. Infatti pensate a come si espande il nostro campo visivo in lontananza. Adesso si contrae anche a causa della prospettiva con più guardiamo lontano. Infatti dovremmo vedere la curvatura sull'orizzonte attraverso la vista da sinistra a destra perché quello che in realtà vediamo in lontananza generalmente è parte della superficie che forse è ampia 1 fino a 300 miglia e non possiamo vedere così lontano davanti a noi. Ecco perché infatti dovremmo vedere qualche accenno di curvatura sull'orizzonte orizzontalmente se affermano che dovremmo vedere la curvatura davanti a noi perché quello che avviene è che appare questo tipo di strato quando guardiamo attraverso la superficie della terra specialmente se guardiamo sopra l'acqua e siamo molto vicini alla superficie. Si vede questa linea distinta e a seconda delle condizioni abbiamo anche l'effetto specchio che si vede sulla superficie sotto il livello degli occhi ma sappiamo che la superficie non si incurva davanti a noi perché non supera il livello degli occhi e sappiamo che non si abbassa in lontananza sempre davanti a noi perché non va a finire sotto il livello dei nostri occhi e non curva in giù fra noi e l'orizzonte il quale in realtà appare alzarsi come un muro sulla superficie. Sappiamo che questo è un fenomeno ottico ed è così che i terrapianisti arrivano a comprendere che ci troviamo su una terra piatta e non su un globo perché abbiamo capito che gli orizzonti non hanno niente a che fare con qualsiasi tipo di curvatura immaginaria. Infatti la prospettiva è stata ignorata e rimpiazzata con questa idea della curvatura. La prospettiva è la curva immaginaria e nel momento in cui accettate questa prospettiva che è la cosa che fa sì che la terra piatta si alzi al livello dei nostri occhi allora dovrete comprendere e realizzare che noi viviamo infatti su un piano piatto e che non siamo su un globo. Questa infatti è la croce di tanti argomenti che contornano i terrapianisti ma una di queste cose che noi tutti sappiamo istintivamente adesso è che i difensori del globo negano istintivamente questa cosa. E come ultima risorsa i difensori del globo parlano di questo apparente abbassamento all'orizzonte quando siamo molto alti sopra la superficie ma quello che siamo in grado di osservare è che quando siamo molto in basso vediamo un orizzonte molto definito e questa linea solitamente è l'inizio della riflessione sulla superficie e questo è ciò che succede su una superficie piana che andrebbe all'infinito ovviamente ma c'è un limite di quanto possiamo vedere lontano su questa superficie da un livello così basso e con più ci alziamo l'orizzonte diventa meno definito diventa più sfocato ed abbiamo un orizzonte più pallido meno chiaro e meno definito ma questo ovviamente viene chiamato abbassamento dell'orizzonte che dai difensori del globo è considerata una prova che stiamo guardando sopra un globo ma nuovamente l'idea che guardiamo in basso su una curvatura può essere ed è stato smontato molte troppe volte e come abbiamo appena menzionato il fatto che il campo visivo da sinistra a destra solitamente è molto ma molto ampio rispetto alla veduta che abbiamo davanti a noi ma non abbiamo mai e poi mai visto una curvatura equivalente ed è in questo modo che la dissonanza cognitiva prende a calci gli antiterrapianisti mentre cercano di giustificare questo abbassamento apparente davanti a noi dicendo che stiamo guardando in basso sulla curvatura quando non sono in grado di vedere la curvatura da destra a sinistra ancora una volta ignorano completamente la prospettiva pretendendo che non esiste infatti chiediamo ad un difensore del globo perché l'orizzonte quando siamo decisamente vicini alla superficie non è in qualche modo un terzo rispetto alla parte sopra dal basso del nostro campo di vista non siete in grado di avere una risposta sensata a questa domanda perché si abbassa a causa della prospettiva e dovete ammettere infatti che l'orizzonte si alza al livello degli occhi dove la superficie e il cielo sembra si incontrino sulla linea di fuga il punto di convergenza dove il cielo e la superficie sembrano incontrarsi nel campo visivo individuale dell'osservatore e questa negazione ovviamente è dove si consegue la comprensione che abbiamo a che fare con un credo di culto su qualcosa che possiamo osservare scientificamente come individui al momento è negata da queste persone che sperano di portare avanti la fantasia che si trovano su una palla di terra rotante e questa è veramente la sfida che passano quelli della terra piatta quelli che l'hanno attraversata vissuta sanno che è un processo molto difficile da percorrere per scretolare e capire le differenze fra quello che ci è stato detto di credere rispetto a quello che conosciamo essere un fatto basato sulla prospettiva dell'osservatore il modo in cui vediamo la terra ovviamente se osserviamo come è stata definita la terra globo è sempre stata fatta attraverso l'osservazione del cielo non si può misurare alcuna curvatura sulla superficie semplicemente perché non c'è e quando guardiamo il sole la luna e le stelle che si muovono nel cielo che cosa entra in gioco la prospettiva non è la terra globo che gira intorno nello spazio che gira intorno al sole abbiamo compreso che si tratta di qualcos'altro e che i corpi celesti sono vicini e che si comportano nel modo che ha a che fare con la prospettiva mentre si muovono allontanandosi o avvicinandosi a noi ad un'altezza che è costante le cose si incontrano sempre all'orizzonte dalla superficie in su e dal cielo in giù fino al punto in mezzo sulla linea di fuga del nostro campo visivo e quanto prima le persone superano questo e si accordano a questo potremo spostarci quanto prima su argomenti più importanti che possiamo attuare quando ci renderemo conto dell'estensione e della semplicità con cui l'inganno c'è stato scaraventato addosso e allora la nostra mente sarà libera da questa matrice globale e allora potremo andare avanti potremo evolverci veramente per svilupparci in modo che nemmeno possiamo immaginare fintanto crediamo che siamo su un globo grazie veramente